ho finito il cibo e sa chi sta continuando a lavorare per carità è una sua scelta meglio così comunque mi sono preparato questo bastone nel caso ne trovi ancora uno gli lancio il bastone eccolo a dopo wow matto wow bravissimo yes bravo wow wow lascia yes vai wow grande Saki ho perso il tartufo ho perso il tartufo ho perso il tartufo bravo Sanky bravo vieni qui vieni dov'è? dov'è che l'abbiamo perso? yes prendi qui prendi qui prendi qui bravo bello mangiato ma bello vai wow bravo topino bravo bravo Saki bravo Saki è un'altra mangiato ma 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 mangiato ma mangiato ma mangiato ma non mangiato ma ma mangiato ma